Sì, sì, no, e lo so, devo cantare, dove? Beh, ma sì, poi canterò, cioè, scusate, no, non adesso che... Sì, canto, non canto, sì, canto su Strimago, le canzoni... No, le canzoni, le sigle dei creatori di Marte, canto su Strimago, sì, però non mi puoi chiamare adesso per sapere queste cose, cioè... Adesso sto facendo il video, eh? Con i follower, eh sì, sto facendo, sto girando i video di YouTube, eh? Ci sentiamo dopo, sì, ciao, 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 ciao. Cari follower, benvenuti nella puntata delle uscite delle serie TV di questo mese di febbraio. Allora, partiamo subito, prima di iniziare, con la sigla! Siamo qui per le uscite di questo mese di febbraio. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale di YouTube, mi raccomando, eh? E anche un bel like e un bel mi piace sulla pagina di Facebook. Allora, iniziamo subito, eh? Partiamo con il primo di febbraio, in uscita la seconda stagione in DVD di Chicago Faya. Passiamo al 15 di febbraio, con la stagione 2 di Zeta Nation. E per quella data abbiamo anche l'uscita, ascoltate, eh? Una confezione, edizione speciale della stagione 3 in DVD dei Brazzaletti Rossi, eh? La serie Fiction Rai, eh? In uscita sempre il 15 di febbraio. Passiamo con l'uscita del 22 di febbraio, che sono diverse, eh? Allora, partiamo innanzitutto con Gotham. Finalmente esce in Blu-ray e DVD la stagione 2. Poi la Fiction Rai. La mafia uccide solo d'estate in DVD. Modern Family, la stagione 5 in DVD. Mr. Robot, sì, Mr. Robot. Avete capito bene, follower, la stagione 1 in DVD, il 22 di febbraio. Sempre per quella data. Concludiamo con la stagione 1 in Blu-ray e DVD di Oddcast. Allora, per questo è tutto, follower. Per questo mese non ci sono uscite per quanto riguarda le anime, gli anime. Quindi vi do l'appuntamento con il prossimo mese. E quindi, ciao follower da vostro Tigrix, eh? Alla prossima! Ciao, ciao, ciao! È un lui, un lei, un trance. Hai visto anche quello? Sì. Ah, ok. Fascinante anche da vedere. Per.